bene iniziamo la settimana con il super verde ma soprattutto bitcoin ci spara una settimana importantissima per il break confermato in close anche della candela settimanale dell'aria 42.500 aria che era importantissima perché sanciva un po quello che era il passaggio tra ciclo annuale chiuso ciclo annuale non chiuso allora il break a 42 e 5 sancisce che il ciclo annuale è stato chiuso il luglio più o meno del 2021 allora finalmente abbiamo messo un punto a questa questione che portavamo avanti da qualche mesetto oggi andiamo a fare il punto della situazione su tutto quello che sta succedendo vedremo il nuovo ciclo mensile quindi al di là del ciclo annuale perché ovviamente è un ciclo che ci porteremo dietro appunto per 12 mesi e siamo semplicemente alla primo probabilmente ragazzi 15 c'è tanta acqua ancora che deve scorrere sotto i ponti e poi andremo invece a concentrarci su quello che è la struttura del ciclo mensile per capire quanto tempo resta perché il ciclo mensile è in fase di super up in questo momento bitcoin sta facendo i massimi del ciclo mensile probabilmente potrà continuare anche per qualche giorno poi invece dovremmo avere qualche giorno di debolezza o semplicemente barra di congestione trading range per la close del mensile di agosto che dovrebbe avvenire verso il 20 circa lo vediamo oggi andiamo a vedere anche i livelli di resistenza chiave perché bitcoin ha raggiunto il primo livello di resistenza sul mese di agosto vi faccio vedere anche la mia posizione di breve termine quella che utilizzo per il trading un po' spicciolo ragazzi quello veloce e per l'analisi che stiamo utilizzando anche in academy già da tre mesi questo è il terzo mese che stiamo facendo questo tipo di operatività che mi piace tantissimo vi faccio vedere cosa ho fatto dove sono entrato eccetera e poi analizziamo e th perché th è più forte in questo momento ancora una volta di btc ma non è detta che questa cosa continui ancora più avanti non perché th posso scendere ma secondo me perché btc può diciamo un po' alzare la testa e cominciare a fare il toro come aveva fatto a novembre dello scorso anno va bene prima di andare avanti in questo super video del lunedì di aggiornamento io vi chiedo di iscrivervi al canale e poi ragazzi come sempre il mio canale nuovo instagram dove trovate una serie di di post e qualcosa relativamente anche miril e qualche informazione aggiuntiva che sto già pensando di inserire insomma faremo già un po' di discorsi su questa cosa allora qui abbiamo il la struttura ciclica di bitcoin quella classica che seguiamo ormai chi mi segue sul canale da veramente tanti anni ragazzi questa è la nostro grafico che seguiamo veramente da non so forse tre anni più o meno allora il mensile di bitcoin facendo una ricapitolazione scusate ragazzi il caldo dalla testa di questa struttura allora è iniziato il vettiluglio ed è probabilmente anche il minimo di cross del ciclo annuale proprio perché è andato a breccare quello che erano i precedenti massimi del mensile quello di di luglio ma anche quello che vedete qui di giugno questo discorso qui ci porta all'idea che su questo minimo è iniziato sicuramente un ciclo superiore quasi certamente un ciclo annuale anche perché era quello che ci stavamo era quello che stavamo aspettando ci chiedevamo appunto quando sarebbe iniziato questo ciclo e così è stato il primo livello di resistenza lo trovate bello scritto qui ed è 47 e 100 nell'ultimo video di aggiornamento che avevo fatto io ho parlato della possibilità che bitcoin nella seconda parte del ciclo mensile facesse nuovi massimi così è stato questo è un ciclo mensile estremamente teorie classico a livello di teoria ciclica quindi ha dipinto ecco così possiamo dire è stato un po facile anche tradarlo ragazzi non lo nascondo proprio perché il mercato è stato esemplare in questo ciclo quindi ha fatto una sua struttura di metà come vedete qui e poi un break addirittura con i massimi nella seconda parte un classico per tutta la famiglia potremmo dire in questo modo questo il primo livello vi avevo già accennato che tra 45 e 47 c'è un'area di resistenza anche a livello di mensilità questo proprio anche relativamente a questa strategia che vi sto dicendo sto portando avanti in academy da tre mesi ora vi faccio vedere la mia operazione che come sempre è stata fatta sul broker prime xbt ragazzi utilizzo questo broker per le operazioni di trading da un annetto perché semplicemente velocissimo poi mi fa fare operazioni a leva finanziaria quindi quando la voglio usare quando no io la uso veramente pochissimo la leva finanziaria ma poi soprattutto intuitivo mi fa mettere gli ordini condizionati e lo stop il take veloce ma poi in quest'anno anche durante i crash io non l'ho mai visto rallentare la piattaforma questo è importante prime xbt vi lascio il link in descrizione con il super coupon con lo sconto ragazzi il 25 per cento delle fee quindi registratevi dalla link se mi date anche una mano coi referrala come sempre lo sapete perché utilizzo questo broker anche per fare questo tipo di discorso perché è più notabile anche dall'applicazione mobile non mi piace molto la parte grafica che per quella uso sempre tradingview però la velocità con la quale ti fa mettere ordini anche sulla piattaforma mobile a me interessa solo la velocità in questo caso ragazzi non fare le analisi non utilizzo il broker per fare le analisi grafiche per quello utilizzo tradingview ma per fare le operazioni per l'operazione mi serve veloci velocemente insomma entrare operare e tutto la maradam non è che così come sempre quindi sulla sicurezza state attenti ma poi c'è anche l'altra sua peculiarità fantastica cioè mi fa utilizzare i btc come valuta in un momento in cui stiamo iniziando un nuovo ciclo annuale btc sta andando su e di nuovo può pompare io guadagno due volte perché ho comprato vedete qua è la mia operazione di trading del mese di agosto è stata fatta qui su questa lineetta che vedete lilla ok dove ho comprato tre contratti per quanto riguarda bitcoin e sto iniziando insomma a cavalcare questa struttura penso che tra un po sono indeciso se addirittura se non oggi domani insomma se il bitcoin arriva intorno ai 47 deciderò di fare take profit per questa operazione di breve e poi deciderò appunto una fase di rientro questa zona qui è stata decisa proprio in base a quella che erano una struttura di volatilità del mercato per il mese di agosto in questo momento una posizione che guadagna abbastanza perché sta facendo circa 2000 dollari di gain questo è un conto che io ho raddoppiato ragazzi diverse volte perché sto utilizzando addirittura un reward però nel momento in cui e bitcoin sale anche quando noi andiamo a fare gain perché ho comprato bitcoin con bitcoin quindi c'è questa peculiarità utilizzando la valuta bitcoin guadagno due volte perché guadagno sul mio balance questo è il mio balance vero e guadagno anche sull'equity che deve andare a devo andare ancora incassare perché qui c'è l'unrealized profit che 0.04 in questo momento quindi prime assolutamente straconsigliato per questa fase perché siamo entrati qui perché l'operazione in academy ci dava l'idea che il mercato potesse spingersi verso l'alto dopo questa fase di ribasso esattamente quello che vi ho detto già nella precedente analisi quando vi ho spiegato che in questa zona qui il mercato sta facendo la close della a metà del ciclo mensile poi mi aspettavo appunto che facesse il massimo vero e probabilmente lo sta facendo tra oggi e i prossimi giorni quindi sta andando a fare il massimo ragazzi poi un'altra cosa che mi chiedete sempre come entrino accadini mandate le mail allora ragazzi l'academy è chiusa l'abbiamo lasciata aperta solo ed esclusivamente per gli iscritti al corso basic poi se qualcuno di voi ha tantissima formazione già fatto corsi per anni insomma è formato e vuole entrare scrivetemi in sul sulle mail infochiocciola tradingon.it e valutiamo un po' la situazione perché non l'abbiamo aperta probabilmente faremo magari una apertura di una settimana verso fine anno adesso stiamo decidendo perché ho notato che in academy bisogna essere estremamente preparati per partecipare soprattutto per capire quello che noi pubblichiamo lì quindi era inutile aprirla neofiti che non sanno neanche premere buy o sell insomma su sul grafico ragazzi sugli exchange perché semplicemente non è un academy di quel tipo che è un academy però abbiamo diversi trading system stiamo gestendo questa fase in maniera esemplare sono veramente felicissimo anche perché gli altri traders sono bravissimi in academy quindi c'è veramente tanto valore aggiunto ma bisogna avere la capacità di capirlo ragazzi e quindi per fare questo bisogna avere formazione quindi academy aperta solo ai corsisti in questo momento però non è per cattiveria insomma è per il motivo che vi ho appena detto allora vendiamo bitcoin qui per l'operazione di breve perché adesso andiamo a chiudere il ciclo mensile questa è la domanda classica perché poi faremo una cosa del genere ragazzi allora la questione è molto delicata se avete operazioni di breve periodo come quella che vi ho fatto vedere prima io sì è possibile magari ragionare in questo modo perché perché semplicemente un'operazione di breve quindi non riguarda le operazioni di lungo periodo né di hold che sono al 100 per cento long ragazzi da due settimane da quando vi ho detto che anche la mia copertura lo famoso short selling di copertura era stato chiuso mi ha mostrato anche il grafico eccetera allora cosa potrebbe succedere intanto ci stiamo avvicinando a quella famosa soglia di fibonacci che vi ho detto nel video di fibonacci e siamo vicini questo è possibile però soprattutto il mercato potrebbe andare a fare una close di questo mensile il problema è che le cross del mensili soprattutto se sono molto forti e soprattutto se questo annuale va a rompere questi massimi perché questo ancora non lo sappiamo ragazzi ok se l'annuale non va a rompere i massimi ed è un annuale ribassista allora eh beh ragazzi tanta canna al fuoco non ci sarà ma se l'annuale va a rompere questa roba qui e questo lo sappiamo ovviamente solo vivendo come si dice lo vedremo solo vivendo e allora a quel punto probabilmente magari il mercato ci fa una cosa di questo tipo e poi se ne riparte con un nuovo ciclo quindi andare a prendere un take profit in quest'area magari insomma non riusciamo poi a rientrare questo è il discorso quindi se siete trader se avete studiato e della formazione gestite con le tecniche di trading cioè di uno stop sul take e poi un rientro immediato su le vostre strategie allora ci sta ragazzi altrimenti questa close di questo ciclo mensile potrebbe essere blanda va bene purtroppo non è possibile in nessun modo sapere questa cosa qui ok quindi l'unica cosa che possiamo fare è starci sopra giorno per giorno e andare a inserire quelle che sono le vostre operatività nel breve periodo io vi consiglio di fare un take profit a scaglioni quindi magari uscire con pezzettini in take e con altri in trailing stop secondo me la soluzione migliore per questo tipo di operatività ma se ricordatevi che poi dovete rientrare perché se il mercato vi parte in faccia perché quando fa questi app insomma ragazzi dovessi andare a rompere poi 47 il mercato si infila in questa nuova aria e tranquillamente andrà a toccare i 52 53 quindi poi questo ricordatevelo perché bitcoin scappa di mano anche il motivo per il quale io anche con grande sacrificio non faccio short selling non ho fatto lo short selling anche di questa zona qui mi sono solo coperto con una posizione su eth in short ma non su btc proprio perché la paura di un rimbalzo in faccia di grande entità quindi nei prossimi due giorni potremmo avere i massimi se non li stiamo facendo oggi potrebbero volerci due tre giorni quindi in questa zona qui massimi del ciclo mensile dopo di che probabilmente il mercato andrà a chiudere il mensile di agosto nel successivo poi andremo a capire che cosa può fare se brecca qui se continua oppure fa il famoso rimbalzo del gatto morto di cui vi ho parlato nel precedente video cioè si scontra contro la resistenza in aria 0 50 61 8 dei ritracciamenti di fibonacci e da lì si gioca la partita agosto fichissimo perché se esce fuori una cosa del genere veramente bella andiamo a vedere invece e terreno più forte questi sono i livelli di eterium di fibonacci 05 era intorno ai 3.000 l'ha breccato ha fatto il bull back ieri e oggi sta tentando di risalire qui abbiamo a 3.400 scusate abbiamo lo 0 61 quindi anche questo è un'altra fase di rimbalzo estremamente importante perché potremmo avere la famosa figurazione abc di lungo periodo in questo caso si andrebbe a configurare un nuovo ciclo annuale ribassista per tutti i mercati cripto allora ricordatevi questa cosa in questo momento la priorità deve avere il concetto di capire se questo movimento rialzista ha la forza di rompere i massimi storici dei mercati cripto se non rompe i massimi storici si andrà a configurare un ciclo annuale o in barra di congestione quindi facciamo nulla fino al prossimo anno a luglio oppure ribassista ragazzi è quello è pericolosissimo i cicli annuali anche se ribassisti hanno comunque una parte iniziale molto forte come quella che stiamo vedendo quindi questo è indubbio per almeno due mesi tre mesi a volte si sale con tranquillità il problema è dopo perché dopo gira male la questione insomma poi si vanno a rompere i minimi di luglio del 2021 ok questo è il discorso quindi i prossimi mesi noi faremo sul pezzo su questa cosa qui ragazzi ed è quello che andremo a toccare quello che andremo a vedere nei prossimi mesi al momento l'operatività è old 100 per cento per quanto riguarda questa fase e sono anche lungo con il mid term in questo momento il mio train system a mid term che sta un po riprendendo le forze dopo la fase di basso ha preso un bel take uno stop ora sta di nuovo in profitto insomma sta facendo di nuovo un po di rialzo quindi speriamo si rimetta in sesto e poi ragazzi invece per l'operazione di breve ciclo mensile di bitcoin potrebbe chiudere intorno a questa data il 19 20 di agosto la stessa identica cosa anche il ciclo su ethereum però è termo ragazzi ovviamente gli iter guardate qui cioè questo è un trend sembra pilotato ma è proprio ragazzi una macchina guardate qui guardate qui fortissimo iter vi faccio vedere anche una peculiarità interessante la chicca del giorno andiamo a vedere quello che è la ciclicità di iter contro bitcoin tanto tempo fa come nelle favole ragazzi a maggio scorso vi avevo accennato la possibilità che e terium andasse a fare contro bitcoin una barra di concessione intorno al prezzo di 0.07 per cento siamo dentro questo livello da tre mesi ok ragazzi a vedere tutto quello che era quel video lì molto bello molto interessante perché questa è una bella fase anche per fare un bel po di profit però 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 anche questa fase ha un ciclo suo ragazzi ok anche questa fase diciamo sta seguendo un ciclo annuale da 430 barre probabilmente daily che andrà in chiusura nel 2022 e dove siamo in questa zona qui ragazzi beh sembrerebbe che siamo intorno alla metà quindi anche da questa zona qui potremmo avere una cosa di questo tipo magari ora lasciate stare i livelli che sono assolutamente aleatori però la forma è questa qui potremmo avere una struttura fatta in questo modo se questo avvenisse allora potremmo avere una zona dove i mercati cripto e le altcoin vanno a performare a fare il famoso ultimo pump e quindi è teniamo le porterà dietro e poi da lì in poi andremo in il close dell'eventuale annuale che insomma è appena partito insomma questo è veramente molto futuristico però l'idea di questa forma è che probabilmente se i mercati continuano a tirare le cripto in generale altcoin hanno anche qualche mesetto che potrebbero stupire nei prossimi mesi cosa ne pensate voi soprattutto quali sono le cripto che secondo voi possono stupire nei prossimi mesi se dovessero iniziare diciamo una nuova fase di bull come l'abbiamo vista nei mesi febbraio marzo aprile più o meno quali sono quelle su cui puntare facciamo una cosa mettetelo scritto nei commenti vi scrivete nei commenti questa cosa e poi io ci sparo un bel video su quelle che piacciono a me ciao ragazzi buon inizio settimana e come sempre forza bitcoin vediamo se lo metto a fuoco ha messo a fuoco ciao